Adesso vedremo una scena che non hai montato, quindi prima te meno e poi diciamo come mai. Ma si fagioli a bocciola. Ma dove stanno si fagioli? Ma questi che sono? Sono piselli, sono verdi, fagioli, metti a mangiare i fagiolini. Ragazzi questa scena è meravigliosa, a parte che l'abbiamo fatta sette volte con otto lunghezze di capelli diverse. Abbiamo cominciato a farla a settembre del 2012, stasera. Qual è la mia cuglia di questi peata per boccuccioli? Ma c'hanno il diabete la gente anziana, cammina. Sì, tu lo diciamo tutti i diabete. C'hanno il diabete la gente anziana, perché non lo sai? Tutti i diabete c'hanno. Ma te sei messo l'orologio? E dove? Ma tu ti ho detto non ti comette quando mi rimassi i costi? Io invece ti ringraziamo e ti faccio fare bella figura. Mi sembrava abbastanza giusta per raccontare come abbiamo fatto questo film. Stavamo veramente caricando per il Banco Alimentare, per il centro. Non è che stavamo lì solo per la scena. Siamo arrivati lì, abbiamo fatto la fila, abbiamo preso il numeretto. Non è stata così semplice. Per cui l'abbiamo fatta due volte. Perché due volte servivano i vacchi al Banco Alimentare mentre giravamo. Un film è andato un po' tutto a braccio. Questo è quello che si vede in queste scene. E' quello che in realtà abbiamo fatto. niente di più, niente di meno. Non c'erano preparazioni prima. S'andava e si faceva. E' una piotta? Ma che è questa scema? Mettovi un po' bene. Prendi uno scatolone per favore. Oh i piotti lo ti entrava al magazzino. La passa via uno. Più quello che ti dà. Così lascio. Mi saluto, sì. Mi ricordo la figura di quel ragazzo che non capiva effettivamente quello che noi stessimo facendo. Quindi quando gli imbruttivo, lui pensava che gli stessimo imbruttando sul serio. Oh, dai chiamiamo sto ragazzo, però che ne so. Avevo un po' in difficoltà. Ti vede in difficoltà? Eh, lui lo faccio vedere come ho fatto in difficoltà. Ti vede in difficoltà? Ma c'è, sta a fare un favore. Parle, c'è te. Facciamo una strana. Dai, via questo. Messo di un'altra mano. Dai. O poi via uno. Ia poi va. Forza. Abbiamo pure caricato tutto il furgone noi. Perché poi quella roba è andata veramente. Se ti ricordi bene abbiamo aiutato prima le suole perché ci serviva il tempo di stringere. Abbiamo caricato prima quello delle suole e poi il nostro. Con quel gesto mi sono guadagnato il paradiso. Già sono come di capellità anche.